Come è avvenuta la Fondazione di Roma? In questo video vedremo la questione metodologica che devono affrontare gli storici. È poco credibile che una vestale, una sacerdotessa che deve rimanere vergine, venga violentata da una divinità, il dio Marte, il dio della guerra, e che abbia generato due gemelli e che questi gemelli vengono allattati da una lupa. I storici devono analizzare i documenti, anche quelli poco credibili, e devono ricostruire il passato. Nei video successivi vedremo cosa ci dice la leggenda, cosa ci dice la storia, sulle Fondazioni di Roma. Ciao! 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 Ciao!